Quando mi sono sposata nonna mi diceva, mi diceva, non lo pensate a questo figlio amico, se non c'è troppo impegno, come tu? Quando gioca il pallone, quando ci sta l'ascol che ha già giocato il pallone, ci sta il pallone, allora la vedete la patrocina. E quando ci sta le crono scalate, lui è un appassionato, gli piace la macchina da corsa. Allora va girando tutta l'Italia per vedere la macchina da corsa. Mi piace di nozze e mi ha detto, cara, un motoporto per un costo bellissimo. Mi sembra partita, guarda, era un montaggio a ballo, ma cosa c'è che si chiamava? Mi ha fatto stare a 3D lungo la strada a vedere la macchina che passava. che ti fa fare l'amore, che ti fa fare l'amore. Poi cosa sai che sei bandato? Sei bandato con degli amici, chichi della scuola, i tur gastronomici. Hai capito? Chi ci va facendo? Vite 7-8 ristoranti e va facendo i tur. E' un tur. Che manca li prendi, capite? Il blu baccalà, la grigia. Ma io non lo so. Ma esco dal lavoro alle 5, no? E io ti dico, ma dove è stato qui da ora? Per le 8 e mezza. Sono stata a fare la pericena dell'amici. E io sempre lo ho aspettato, aspettato, aspettato. Quando mi ero dato i fotografi, mi è uscito a cucinare. Fantasma. Che ti so, dite un fotografo? Ma che è questo? Mi hai detto, che ti devi dire, signore? La fotografia è venuta a cucinare. Solo io non me ne racconta. Pura macchina fotografica ne racconta. Perché tu sei restato un fantasma. Solo che io sono innamorata. Io aspetto. Dopo c'è da dire. Io so stupida. Questo si approfitta. Però... Spero che cambi, ma per il momento non è. Aspetta, spera. Senta, ma attenta a te. Ma lei? Ma qua ti devi andare a correre. A te dai cosa? Ma chi è che ti ha detto a me? Guarda che bella coppia. Ma questa? Ma se lei? Ma lei? Ma lei? Ma lei? Ammiglia, fammiglia su casa. Siamo mai vendita la miglia. Perché io guarda, io quando vedo i coppietti. I coppietti che va in giro sotto il braccio li deve toccare. Perché io sono sempre da sola.